Grazie Tutti alla pulsonatura Tutti gli atleti alla pulsonatura Tutti gli atleti alla pulsonatura Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Go, 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 go! Go, go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! All right, all right, all right? No, no, no. No, no, no. 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 No, no.